buongiorno a tutti team pink ladies oggi sono qui perché vi andrò a realizzare andremo a realizzare insieme tre nail art animali andrò a realizzare l'effetto pelle di serpente pelle di tigre quindi la trama della tigre e la trama della giraffa ho scelto questi tre animali perché comunque guardando anche online sono quelli meno realizzati quindi vi faccio vedere come le ho realizzate io sono un po' particolari e diversi dalla classica zebra o leopardo quelle che a me piacciono un sacco soprattutto il leopardo ragazzi mi piace davvero un sacco come effetto detto ciò io come sempre mi sono già preparata le mie tre tip già con la base colorata e già opacizzate con il sigillante della venalisa il matte top coat eccolo qua ho utilizzato un verde o un bianco e ho effettuato uno shade con il bianco e l'arancione quindi una sfumatura io l'ho fatto in verticale un po' di traverso però potete realizzarla anche verticale orizzontale come volete queste sono le tre basi detto ciò vi mostro quello che ci servirà allora innanzitutto un sigillante utilizzo questo che è quello che sta per terminare vedete poi dopo ci servirà un sigillante matte utilizzo sempre questo una spazzolina morbida il gel colla quindi oppure un costruttore un sigillante quello che volete per attaccare gli svaroschini questa specie di polvere che sono delle fibre di tessuto non mi ricordo come si chiamavano e serve per andare a creare l'effetto peluche quindi morbidoso io l'avevo preso tempo fa dai cinesi credo che si trovino anche su vedete che sono delle delle fibre che unite insieme sono super morbidose e fanno l'effetto peluche nella colorazione marrone perché esistono anche altri colori la polvere effetto scaglie non so come si chiama perfettamente questa qui fatta in questo modo i flakes che credo che si chiamano polvere effetto flakes una roba del genere utilizzo questa qui la comet sky di passione poi degli svaroschini o strass quello che avete io utilizzo questi ad aurora boreale quindi multicolor ci servirà il kenny numero 564 che è un marrone un paint gel lo stamping gel black tulip l'fw 12 che è il nero quindi il classico nero un pennellino sottile utilizzo questo di beauty big bang ma neanche troppo quindi non mi serve uno liner ma anche un po più spesso va bene lo stesso la matita in cera per prendere gli strass con gli svaroschi come sempre io mi sono già preparata il mio anello tavolozza e come vedete appunto i colori sono pochissimi perché queste nail art sono davvero super semplici ho messo il nero il marroncino e qui ho messo anche del sigillante quello della vennalisa senza dispersione perché mi servirà per andare a creare un effetto l'effetto serpente prima di partire come sempre vi invito a lasciare un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina mi raccomando così vi arrivano tutte le notifiche ci vediamo a fine video come sempre con il risultato finale grazie a tutti 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 grazie a tutti